Una pattuglia della polizia stradale di Caltanissetta, in servizio sulla statale 626 che collega il capologo Nisseno a Gela, ha soccorso il conducente di un auto articolato in difficoltà. Gli agenti, mentre percorrevano l'arteria stradale, hanno notato qualche anomalia. Come raccontato alla stessa polizia, infatti, l'uomo poco prima si era fermato per un'avaria del mezzo e nel tentativo di controllare il motore era stato investito dal liquido refrigerante dell'auto articolato, ancora ad alta temperatura, subendo quindi delussioni. L'autista, nonostante le ferite, si era però rimesso in viaggio. Gli agenti a quel punto hanno fatto intervenire sul posto ai sanitari del 118, che hanno medicato il conducente, il quale, superata la paura iniziale, ha potuto continuare il suo percorso verso casa.